Vi siete mai chiesti come vediamo, come sentiamo, come assaporiamo i cibi, come evitiamo le distrazioni o come ragioniamo degli eventi della vita reale? Nei laboratori di psicologia sperimentale i ricercatori del CIMEC investigano queste e questioni simili attraverso l'osservazione del comportamento umano, con una serie di tecniche che vanno dalle tradizionali tecniche della psicofisica alle registrazioni dei movimenti oculari, ai contesti multisensoriali e alle registrazioni elettropisiologiche. Finora, grazie a queste tecniche, abbiamo imparato una serie di informazioni circa la cognizione umana, ma la mente umana rimane in gran parte un mistero e questo è un motivo per cui nel laboratorio di psicologia sperimentale la ricerca non si ferma mai. Il nostro obiettivo è quello di studiare come il cervello elabora e integra le diverse informazioni sensoriali relative al corpo per costruire una rappresentazione corporea, cioè un'immagine del nostro corpo che è fondamentale per riconoscerlo, identificarlo, ma anche per interagire in modo efficiente con l'ambiente circostante. In il nostro researche, noi vogliamo trovare come la nostra impressione del mondo arounde, è creato da la base sensoriale stimolazione di retina di gli occhi. Per questo motivo, noi recordiamo anche la base di gaze e l'elettroencephotografiche mesi, mentre la partecipanti performano specifiche computerizzate This combination of eye tracking and EEG allows us to determine how the perceptual snapshots that we receive with every eye movement are combined into a holistic impression that we finally see.